Benvenuti in un nuovo video, oggi voglio parlare di questo giubbotto moto che è stupendo, costa 80 euro io prima utilizzavo quello della Gaudi Leather come giubbotto, è più pesante quello però questo qua è eccezionale per la motocicletta veramente, io ho preso un Beverly 500 perciò per adesso moto non ne ho però mi sta venendo cuore di prendermi una bella custom e può essere farò cambio con qualcosa e mi prenderò la moto di nuovo perché prima avevo una motocicletta, una Nugget, molto potente, un 8,50, veramente bella però stavolta voglio di custom proprio, anche se l'ho portata ma si sentono troppo le buche con la custom purtroppo perché sono per i rettilinei americani questo qua è un giubbotto chiodo per eccellenza per gli motociclisti, è della Winwet, lo trovate su Amazon, io ho preso 6XL perché è la mia taglia ormai purtroppo sono un grassone, però faccio palestra perciò sono un grassone muscoloso perciò 6XL sembra un buttafuori, ecco esatto, i miei amici tutti quanti mi dicono sei un buttafuori, vai a fare un buttafuori quando andiamo nei locali, mi dicono tutti quanti vai a parlare con i tuoi colleghi che ci fanno entrare e niente, ormai sembra un buttafuori, una volta era giusto come dimensioni, ora niente grosso e muscoloso, va bene, ci sta comunque per adesso la mia taglia è 6XL perciò l'ho preso 6XL e niente, vi faccio vedere questo giubbotto che è fantastico allora, innanzitutto è vera pelle bovina vera pelle bovina non fa, l'ho appena aperto, non fa cattivi odori perciò è perfetto ha una retina un'imbottatura un'imbottatura che vedi, biker fashion ora vi spiego perché ha un'imbottatura che si può levare se c'è troppo caldo e si leva perciò la potete utilizzare anche nelle medie stagioni mentre quella della Gaudi Leather era un chiodo classico pesantissimo invernalissimo soltanto che quella arriva fino alla 4XL ma non mi pento assolutamente di aver comprato questo giubbotto perché come odore quello là fa proprio puzza questo fa odorissimo e niente, questo giubbotto ha anche con gli 80€ ci sono comprese le protezioni ragazzi, schiena protezioni schiena protezione protezione schiena e protezione gomito perciò ci sono tutte ragazzi le cose sono perfette andate sul sicuro 80€ un mostro di giubbotto veramente io che vado sempre con lo scooter è perfetto ragazzi veramente poi comunque il Beverly 500 è comunque quando una cassa un po' potente perciò e ci vuole anche la protezione giusta allora ascoltatemi fra questo se siete motociclisti compratevi sicuramente questo se non siete un motociclista compratevi sicuramente questo perché comunque è buono meglio della Gaudi Leather l'ho preso su Amazon costa 80€ ed è più pesante più spessa la pelle però fa puzza fa un odore un po' pesante mentre questo qua fa un buon odore di cuoio certo non sarà un cuoio eccellente però è buono non è ecopelle è un cuoio è cuoio e praticamente con la protezione vedete questo qua è una protezione piccola quella ce l'ha più pesante è proprio invernalissimo quello della Gaudi Leather mentre questo qua è più e può essere sia a mezzo d'estate non penso che vengono andate in giro col chiodo a meno che non non avete un bauletto e allora poi se c'è freddo lo mettete dentro il bauletto appena è arrivato alla destinazione se non lo dovete portare tutto il tempo da presto insieme al casco perciò già casco giubbotto non è che si fa così perciò che vi stavo dicendo è buono buono mi piace mi piace mi piace mi piace bellissimo bellissimo la la cosa dove si mette l'accendino mi è peccato che è piccolo speriamo che ci sta speriamo che ci sta lo zippo tre tasche le solite tre tasche del giubbotto del del chiodo io ne avevo preso un altro veramente era quello che qua nei laterali aveva i le cuciture però questo qua secondo me è meglio perché in un quello là è più in un questo qua lo vedo in gira ragazzi mentre quello con i i cosi con i laccetti qua ai lati non lo vedo tanto spesso perciò non lo vedo ai ragazzi mentre questo qua si perciò mi piace di più questo anche se devo andare in un in un in una discoteca comunque più tranquillo sembro perché comunque io se la terocco non me ne faccio tanto perché tanto non mi piace vocare quella cosa di vocare non non mi piace lo facevo quando ero più giovane che mi che andavo a vocare nella serata rock ma ormai sono più grande preferisco concerti oppure serate house mi piacciono di più e comunque il fascino quello là del del motociclista mi resta sempre e niente ragazzi questo è tutto per questo video compratevelo questo giubbotto se siete motociclisti compratevelo se avete una bandit o una custom o una naked prendetevi questo giubbotto una ducati monster per esempio anche con la ducati monster questo anzi non tanto perché questa nella naked che avevo io avevo questo tipo di giubbotto gli ho dovuto mettere nel il para nel serbatoio il paraserbatoio perché mi faceva le intacche con la cintura ma con una custom andate sicuri che non ci sono problemi anche con con un enduro stradale potrebbe andare bene questo giubbotto nera io vi consiglio sempre andare un enduro stradale nera perché oppure se mettete colori troppo sportivi con con un giubbotto così classico non ci sono non c'è tipo verde come la casa con la saghi ninja con un giubbotto classico come questo non ci sta o ci sta il nero o un colore Havana a Bordeaux comunque un colore così ci sta un blu particolare un viola però sicuramente il nero ci sta più di tutti e niente ragazzi questo è tutto per questo video vi faccio vedere di nuovo la marca WinWinNet Biker Fashion su Amazon compratevelo oppure se invece avete potete utilizzare anche Gaudi Leather ma è pesante ve lo sto dicendo del sole invernale però è bello invernale imbottito se vivete in un posto in un posto dove c'è molto freddo anche quello va bene però io vi consiglio questo qua che è anche la protezione per la moto e niente ragazzi questo è tutto per questo video si schiedetevi al canale io parlo di tantissime altre cose guardatevi gli altri video io parlo di motori di motociclette di fuoristrada di softair di armi di videogiochi di profumi di prodotti guardate quanti prodotti ci sono per la barba di prodotti per la barba per la rasatura e vari il mio canale andate a vedere tutti i miei video possibilmente c'è qualcuno che vi piace e ve lo andate a vedere ho qualcosa anche nelle playlist sto sistemando anche le playlist perciò andatevi a vedere anche le playlist a presto